Buonasera abbiamo chi? Il nome? Lei si chiama? Maurizio. Quindi voi siete impiegati? Sì. Statali? No, no. Agricoltura, piena agricoltura. Agricoltori di che cosa? Siamo in mezzo ai carciofi. Questo è il vostro campo? Contengono tanto ferro. Tanto ferro. E fanno bene. E fanno uscire pure tanta aria se non sbaglio, vero? Come le castagne. Ma ci sono più carciofi uomini nel mondo o più carciofi ortaggi? Ma anche il suo cane mangia i carciofi? I friterbi? Mangia tutto? Mangia? Bellissime candele, signorina. Però non c'è un carciofo come candela. Non ci ha pensato. Ah, non ne è riuscita. Oh signora, tutti cactu... non sbagliamo. Cactus? Cactus. Ma carciofi niente. Quelle sono lavagne dipinte da lei. Le donne sono con i carciofi. Solo sfogliandole con cura arriverai al loro cuore. Buongiorno, ma è proprio amaro fatto con i carciofi? Sì. Ma è un digestivo. Digestivo anche aperitivo. Ecco la mamma che prende in braccia questa bella contaminella. Oh, abbiamo un cavaliere errante. Erro, erro. Però ha un po' di capelli, una bella capigliatura. Nel 1279 Sette era divisa in sei rioni. Allora questo è un mulo. Però io voglio inquadrare non il mulo, ma gli occhi azzurri di questo buttero, giusto? Grazie. E scusi Cavallerizzo, io sto riprendendo da dietro. Non è che c'è pericolo che mi dà un caccia alle... Ah, il ragazzo riprende e la ragazza mangia. Come mai sta storia? Lei è già mangiata. No, la caccia ha mangiato. Sono buoni? Sì, sì. Ok. Ma vuole dare un bacio al fritto, al suo ragazzo? Vai. Un bacio tra i carciofi, vai. Ah, bene. Anche i carciofi ispirano amore. Buongiorno signora, ma lei si sta facendo la foto proprio davanti ai carciofi, vicino ai carciofi? Ma mamma li fa i carciofi qualche volta? Ti piacciono i carciofi? Sì, li dai. Ecco, come li fa? Lasagna, lasagna di carciofi. Oh, non avete lasciato niente nel piatto. I carciofi proprio divorati. Oh, che bella varietà di carciofi, una bella coreografia. Sono buoni? Buonissimi. Noi veniamo da Frosinona. Ma il boccone, certo, certo. Non avete la nutrizionista, però, ma forse. Che fame, che fame di carciofi. Il carciofo si deve sentire il sapore del carciofo. Aglio, olio, sale, viltruccia. Impatto tradizionale nelle visciole. Bisciole? Ah, crostatine di visciola. Buongiorno. Lei sta pregando che arrivi nei carciofi? No, io sto pregando che le calciofie. Eh, è vero, è vero. Tutti allora preghiamo. Continuiamo con questo bel ragazzo, una dedica musicale alle donne. Questo è come se fosse un microfono, però siamo all'affare del carciofo, quindi dobbiamo usare questo. Rose, rosse per te. Rose, rosse per te. Dato che siamo all'affare del carciofo. Carciofo rosso per te. Il mio cuore. Il mio cuore non ha connesso. Il mio cuore non ha connesso. Ciao. Sarà del carciofo? Ma vi piacciono i carciofi? Lontana? Sì, sì. Siete di Sessi. Sessi, bello e Sessi. Ciao. Mandi un bacio alle ragazze e alle donne di Sessi. Donne di Sessi, sono qua. Non venite a prendermi. Queste ceramiche rappresentano i carciofi? L'estradizione burghese. Ah, ecco. E sono i fumi. Ha un cappello proprio a forma verde. Lei veste a tema. Signora, salve, non per offesa. Sembra un po' un carciofo. Sembra il suo cane. No, è bellissimo, originale. Una capigliatura. Ah, carciofo. Ah, carciofo. E di tirina la teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Signor Martuffello, buongiorno. Posso riprenderla? Come se? Facebook Fabio Conti, Facebook YouTube. Pronto per degustare i carciofi? Eh, sai quando che degusto i carciofi? Mi dico, ha una sua freddura, quello che gli viene in mente. Non pretendo appunto la barzelletta sui carciofi. Ce ne stanno tanti di carciofi. Una battuta. Siamo qua, senza la sala del carciofo. Ciao. La nipote che mi saluta. Eh, è bello. Siamo alla trattoria dell'osteria delle erbe, che è di mio fratello, dove ci mangia bene. Ecco, bene, bene. Io l'anno scorso ho fatto il venerdì santo la processione e la cercavo perché ho sentito che fa... Ah, non fa più figurante lei. Ah, guarda, grazie, buone cose. Ciccinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Ciccinella teneva, teneva. Ciccinella teneva, che teneva. Bravissimo, un applauso. Bambino carciofino? Bambino carciofino. Ma che cos'è questo? La copelletta. Oh, acqua messa. Ah, no, no, no. Oh, abbiamo dei stessi molto abbronzati, vero? Ciao. Vino rosso, ma carciofino, niente, carciofi. Eh, tra poco la prendiamo. Oh, no, no. Oh, 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 oh. Buonasera, sta facendo la diretta? Lo vedo da tiktok, si vede un po' da tiktok lei, con il capello da tiktok, benissimo, è proprio diretta, benissimo, buon proseguimento. La ragazza la vedo un po' pensierosa, cose personali, un po' ridicato con il ragazzo. La vedete la riscaldata, ci hai raccontato tutta Antonietta? Le, fammi a vedere. Salve, riscaldamento? Ma sentite freddo, non ho capito, è per la questione musicale insomma. Certo, per l'intonazione, per gli equilibri dei suoni. Signora, stanno facendo riscaldamento, stanno facendo riscaldamento la banda, è riscaldamento, ma lei sente freddo? Ciao! Essere sempre contento, viveremo Dove sta Mascorosso? Non lo vedo Bruno, cari no Questi giovani stanno ammazzando oggi, altri 60 Vai Bruno Così il Bruno vi vogliamo, vai Bruno No, non c'è Quale idea Vedi che lei non ci sta Quale idea Mi siete riscaldati? Sì, stiamo aspettando la parte Benissimo